Aggressività, cos'è? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Come vi ho promesso nei giorni scorsi, per mantenere vivi i nostri canali, pubblicherò una serie di video che spero possano esservi utili. In questo primo video vi spiegherò cos'è l'aggressività e come riconoscerla. Partiamo dal fatto che qualora decideste di frequentare un corso di educazione di base, la prima cosa che un educatore cinofilo deve insegnarvi è il modo in cui comunica il cane. Vi deve insegnare la lettura del cane. La lettura del cane è uno strumento che serve per capire cosa il cane potrebbe fare e come si sta comportando, specialmente durante le interazioni con i suoi consimili. L'aggressività è una dote caratteriale e soprattutto naturale che serve agli esseri viventi per difendersi. Ma che cosa vuol dire un processo naturale? Vuol dire che è insita nel bagaglio genetico di ognuno di noi e che serve per allontanare i pericoli per difenderci da essi. Questo impone dei processi chiari e di non usarla se non costretti. Diciamo che è come se rispondesse a un software genetico, tuttavia essa è definita come un problema comportamentale. L'importante è riconoscerlo e intervenire prontamente. L'aggressività ha diverse sfasciate e genetica. Ognuna di queste fasi ha conseguenze diverse. Cominciamo a chiarire un punto fondamentale. La prevenzione dell'aggressività. L'aggressività si previene nel cucciolo mediante un processo di socializzazione puntuale e che contempla tutta una serie di esperienze, siano esse intraspecifiche che extraspecifiche. Questo non ci mette al riparo ma sicuramente è un ottimo fondamento. Grazie alla socializzazione il cucciolo impara l'inibizione del morso, a dosarsi con i suoi consigli e interagire in maniera corretta con la persona. Quindi è opportuno che l'allevatore svolga questa fase con tutta la cucciolata e che il proprietario continui questo processo. Magari accompagnato da un educatore cinofilo. Ci si accorge dell'aggressività quando ormai è conclamata, cioè quando il cane è in procinto di mordere o peggio ancora quando ha morso. Per questo è importante stare attenti a tutto ciò che il cane vive quotidianamente. L'aggressività può nascere da un'esperienza vissuta male. Le esperienze possono essere molteplici, una lite con un altro cane, un episodio traumatico con una persona, per esempio un calcio o essere picchiati. Da qui nasce prima di tutto la paura circoscritta allo stimolo che innesca il problema e se non viene riconosciuto si allarga ad una gamma più ampia di stimoli. questo processo si chiama generalizzazione dello stimolo e lo stimolo e lo stimolo. Non sempre ci si accorge di un evento traumatico. Quando accade ci si può accorgere dei segnali iniziali che vi elenco. Il corpo protatto indietro accompagnato da sguardo basso con probabile midriasi che è l'allargamento della pupilla. Pelo sollevato all'insù, ringhio emesso con il lato della bocca. Probabili abai con il cane che fa avanti e indietro. Questi sono i probabili segnali che potete fare nel vostro cane. L'altra causa dell'aggressività è la genetica. La genetica purtroppo è incontrollabile e qui i passi da fare sono ben pochi. Ci sono delle razze che sono geneticamente predisposte all'aggressività, ma volutamente non le elencherò per non creare falsi miti. Quello che vi posso dire in questo caso è di rivolgervi a allevatori qualificati e che avevano una sola razza per volta. Questo parametro vi aiuterà nell'acquisto del cane giusto e soprattutto ben saluto. Spero che questo video vi possa essere stato utile. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sui nostri canali sociali.